Ok raga, eccoci qui, ho finito di mangiare, ho mangiato la pasta asciutta, il sugo e i poppetti e un bicchiere di Coca-Cola, ora faccio il video e vado a fare i lavori. Vi voglio dire del vostro Enrico Pasquale Pratico, che sono io, sono di Motta San Giovanni, pronti di Reggio Calabria, ho 29 anni, sono qua e comando io, numero 1, sono il maestro. Voglio dire, seguitemi, quando vedete, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, bello a tutti i ragazzi e volete condividere i video, bene, qua sotto c'è il link di Amazon, mandate i miei pacchi così io le apro sulle storie o un video così, c'è il link di Amazon, ok? C'è anche il link del canale dei gameplay, dei giochi, che ho fatto due, uno l'ho caricato, oggi sto caricando un altro gioco, due giochi per voi su YouTube del canale dei gameplay, qua c'è il canale, vabbè, c'è il canale dei gameplay, c'è il link di Amazon e ho detto tutto. Saluto Paolo, Silvia, Claudio, Gloria, Silvia, Mary e Jennifer, guardate con la J, Lucia del Nord e con la X, ciao a Berlin, metto pausa e a tra poco. Ciao ragazzi, eccomi qui, stiamo qua e dopo andiamo sopra a mettere quegli altri vestiti e torno al lavoro qui, che la mattina lo sapete sempre, non voglio dire sempre che a voi dite che il lavoro faccio, l'ho detto a voi, ci sono persone che dicono che il lavoro fai, quello che dico sempre, zappa la vigna, la mattina, dopo vengo, mi faccio la doccia, mangio, dopo quegli altri giorni lavoro qua a pulire, non come vuoi, io ho 29 anni, i video le faccio, le foto le faccio, le storie le faccio, i saluti, comandate voi, comando io, sono grande, ma questi, voglio dire, ho messo la maglia rossa, così non mi mandano malocchio, a me, e ho messo anche il gelè, così faccio il completo, vedete qua, è andato via il colore, questa maglia rossa, questa maglia rossa, quando faccio la festa a Mottasagnoanni, quella dalla corsa, io me lo sono comprato con la mia famiglia, quando siamo andati a festa a Mottasagnoanni, anni fa, c'è la data qua, quando è, quando hanno fatto la gara, c'è scritto qua, ok, io voglio, bene dai, i miei occhi si chiudono e si aprono, io sono qua, ora apriamo il cellulare che è tardi, così vediamo i messaggi e altre cose, e mi chiama qualcuno, parliamo su Discord, i prossimi video e il segreto è un micol, l'ho portato tanto a un micol, ora vedo e lo porto o domani o quell'altro domani, e devo portare nuovi contenuti alle persone, i miei fan, che io li voglio bene, che mi mancate, siamo lontani, volevo abbracciare, volete venire a trovarmi, fare le foto, la firma, un video saluto, venite, io sono qua, sono italiano, calabrese, dialetto, se volete capire la mia lingua, saluto Cristina Bertavello, Simone, Jody, Davide Rubino, Alessio, Antonio e tutti voi, Fabio, Valentina, Maos23, Over, Antonio, boh, tutto salutato, bene, un abbracci, voglio bene a loro e voglio bene anche a voi, ragazzi, ok, voglio bene a tutti, non stai arrabbiati, dai, state tranquilli, ok, mamma mia, vabbè, John Zina, YoYo Mini Zini, Cucu sette mamà, e io avevo la Play, potevo giocare con voi a Fortnite, a CTA 5 e altri giochi, quando ce l'ho, possiamo giocare online, facciamo RP a CTA 5, quello, una volta ho giocato per sopra a Torino, anni fa, quando ero per sopra, dei miei cugini, dei parenti, guardate, avete visto? sono un buono uomo, voglio dire, bravo uomo e un bravo ragazzo, sono giovane ancora, c'ho 29 anni, saluto Alessandra, quella una che, vabbè, che la conosco, a ieri ho fatto la live con Alessio e con altre persone, ciao bello, grazie che sono venuto della tua live, sul Discord, baci, ti voglio bene a te, tutte le persone che mi salutano in chat, a ieri sera, e questo video lo sto facendo ora pomeriggio, andiamo a aprire il cellulare che è tardi, che devo fare i lavori, non penso ai scemi, raga, state tranquilli, non fate i scemi, avete capito? Dai, si deve ridere, le persone dicono, non ridi, stai sereno, a me parlo, parlo, voglio ridere, le persone vogliono il rido, che fa bene, a saluti, e ridi, e bevi assai acqua, ti fa bene, qua sopra devo mettere la crema da lencia, va bene, e niente, raga, sono qua, dai, andiamo, ti voglio bene, principessa, Cristina Bertavello, sei bellissima, e sei una bella ragazza, una bella donna, I love you, e ti amo di bene, e siamo lontani, volevo fare un video con te, Cristina Bertavello, parliamo, il mustro, I'm a fan, che parlavo con te, a quello giorno, a sera, su Discord, sulla live di Simone, quando vuoi, ci vediamo un posto, e parliamo, ok, andiamo, apriamo il cellulare, facciamo tutto, dai, mi dissocio io, non ho detto cose strane, mi scuso e perdonati, ma andiamo, dai, metto pausa, apriamo il cellulare, ora mi lavo la faccia, mi bruciano un po' gli occhi, io mi lavo sempre la faccia, i capelli con il shampoo Clea, il shampoo con l'altro, mi faccio sempre la doccia, io sono pulito, metto un fufumo, si chiama così, la mia parte, si chiama anche un fufumo, in un'altra lingua è questa, l'ho aperto, ok, aspettate, arrivo, ok, andate tutti sul link di Amazon, e mandatemi i pacchi, ok, così, io le apro, e mostra a voi, che avete mandato, e leggo i, i biglietto, a tra poco, ah, mi sperdì una cosa, ho detto io prima ora, che c'è il link di Amazon, così mi mandati i pacchi, e mi sperdì, gli dico, c'è il secondo canale dei gameplay, che porto tutti i giorni, uno sì, uno no, no, tutti i giorni le porto, solo il sabato e la domenica, porto i giochi dei gameplay, sul canale dei gameplay, seguitemi anche là, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, e seguitemi e porto i giochi, raga, io gioco come voglio, voi che dite, non so giocare, mi sto imparando come si gioca, a Bollostar so giocare, vinco, le partite, dopo perdo, ci sono persone che sono forti, io mi sto imparando con tutti i giochi, le registro, solo, voi siete scemi, voi non sapete giocare, io so giocare, sono grande, seguitemi lì, sul canale dei gameplay, seguitemi anche qua, che porto video, in mostro i gd, del computer, i vecchi giochi, 2017, mi regalavano, mi portavo tanto, all'azzaro vicino a farmacia, e ce l'ho là sotto, e li devo mostrare, ancora che non li mostrano, e mi sperdì, e poi, vi faccio un video, che zappa la vigna, e, la sotto dei gallini, o sopra i barconi, eccetera, eccetera, qua, seguitemi là, e seguitemi qua, e c'è il link di Amazon, anche, ok? Ho detto tutto, grazie a tutti, andiamo qua, andiamo, aspettate, ah ok, ho sentito, che mi hanno detto, a me, che Cristina Bartovello, è fidanzata, no, io, è bellissimo, è una bella ragazza, io, la voglio bene a lei, a Cristina Bartovello, ho sentito i messaggi, delle persone, e, e niente, io mi dissocio, e, non ti arrabbiare, e, il suo fidanzato, e, e niente, sono qua, ciao, Cristina Bartovello, scusami, perdonami, tanti baci, ti voglio bene, e, alla prossima, andiamo a fare qua, il cellulare, a vedere qualcosa, grazie, che ho parlato, quello giorno, con te, e, con le altre persone, e, con te, ok, raga, finiamo, questo video, ho messo, occhiale di scuri, vi voglio dire, uno giocatore, scaricato, dal, Real Madrid, mappe, lo manda, alla Juve, con la pronto, di, mappe, al Real Madrid, il calciatore, è pronto, a cambiare, a Ria, la Juventus, un giorno fa, ieri, l'hanno detto, mandano, quello giocatore, la che conoscete voi, mappe, la, quella la, si chiama così, lo conoscete, scrivetemi in privato, lo mandano, sulla Juve, il giocatore, era, lo mandano, della Juve, un giocatore, forte, come Cristiano Ronaldo, è, Messi, è forte, sì, là, vabbè, Messi, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, è forte, ci sono, giocatori, un poco forti, che giocano a calcio, il numero uno, è, Diego Maradona, Diego Maradona, il numero uno, numero dieci, era, era un campione, Diego Maradona, era bravo, riposati in pace, campione, che manca a noi, sul cuore, era bravo, Diego Maradona, leggiamo qua, basta così, vabbè, qua parlano, della serie, del Squid Game, va bene, io ancora, me la sono vista, solo metà, la, la serie tv, quella là, sull'app, e, Squid Game, la conoscete, l'avete vista tutta voi, o, metà ancora, posiamo gli occhiali scuri, i miei occhiali, aspettate, vi voglio dire, raga, 18 ore fa, Lazio e la Juventus, e, e Lazio, ha perso, 0, la Juve, ha fatto due golle, ha vinto la Juve, Bonucci, ricorista, ricorista, infallibile, Lazio e Juventus, 0 a 2, serie A, eh, ha vinto la Juve, a ieri, puntaggio, finale, ieri, Lazio 0, Juventus 2, serie A, ha vinto la Juve, a ieri, siamo forti, mamma mia, Gesù, Madonnina, aiutemi, preghiamo sempre la Madonnina, e a Gesù, a Sira, seguitemi tutti, quando vedete, iscrivetevi al canale, a trovate la campanella, per tutti i ragazzi, un like, sono il numero uno, comando io, sono il maestro, sono uno YouTube, sono famoso, sono una leggenda, sono il Dio YouTube, il re di YouTube, e il Dio YouTube, vabbè, ho detto tutto, basta dai, mi dissocio, andiamo, ora che sentite parlare, è la mia famiglia, sono qua, ho spostato il letto, stiamo polendo, e a dopo, o alla prossima, tutti i giorni, mettete la sveglia, e seguitemi, ok, c'è il link di Amazon, mandatemi i pacchi, c'è tutto, la Mr. Box, se le tute, le felpe, scegliete, così io, faccio un video, e porto le storie, un video così, c'è anche il secondo canale, dei gameplay, dei giochi, andate tutti, e piace i miei giochi, che porto sul secondo canale, qua porto video così, e tutti i maneri, e mostro tante cose, ancora a casa abbandonata, devo trovare, su internet, su Google, come fanno quell'altro, devo trovare un posto vicino, lontano, ancora devo prendere la patenti, devo cercare la pitanzata, devo cercare un lavoro, in un'altra parte, ora lavoro, qua con la mia famiglia, a mattina, che zappava in, non con voi, voi che siete scemi, non comandate voi, comando io, ok, fate i bravi, dai, ok raga, mi canto la canzone, che fa compleanno, un pacco no, tanti auguri a tutti, quelle persone, che fanno compleanno, a novembre, 2021, tanti auguri, a voi, tanti auguri, a voi, tanti auguri, a tutti i miei fan, che fanno il compleanno, tanti auguri raga, voi quando lo fate il compleanno, a novembre, dicembre, scrivetemi in privato, non volete dirmelo, non fa niente, stiamo tranquilli, vediamo il pubblico, uno screen, di discord, così, mi mandate l'amicizia, su discord, così parliamo, e prossimo video, facciamo la chiamata, su discord, come la facevo sempre, e porto il video, per voi, su youtube, ok, pubblico la storia, qua anche su youtube, e un'altra parte, eccetera, eccetera, io sono qua, questo pomeriggio, c'è usuli, bella giornata, e niente, a ieri ho fatto un video, del gioco, del gameplay, e si è caricato, su youtube, ora sto caricando un altro, e sono a posto, così, le persone dopo, le vedono, i giochi, prima le devo aggiustare, con la intro, e la base, no, la base, no, la intro, quando comincia, e quando finisce, eccetera, eccetera, ok, io vi saluto, raga, volevo cantare, una canzone, so cantare, loro dicono, che non so cantare, loro non sanno cantare, e, boh, io so cantare, a muzzo, con le frasi, da bocca, oi vita mia, oi cori, e i metamuri, chiamo a tutti, venite a trovarmi, e guardo qua, avanti e indietro, perché, non posso guardare, ma, muti dai, posso guardare, dove voglio, qua comando io, con la mia famiglia, io voglio bene, voi che siete, niente voi, e ora chiudiamo, ok, sono qua, raga, sono qua, ho salutato, a tutti le persone, sì, ho messo la maglia, così non mi mandano, un malocchio, e un gelè, boh, a discoteca, apriro già, raga, da voi, per sopra, a discoteca, andate, raga, non bevete, assai, in discoteca, ci sono, guai, non bevete, in discoteca, o in giro, state tranquilli, andate, a mangiare la pizza, la, la pasta a forno, o altre cose, non andate, in discoteca, a bere, assai, quelle cose là, e in giro, dopo vi fate breacate, andate, raga, o state a casa, è meglio, o andate, dopo bevete, solo un bicchiere, no, assai, tutti i bicchiere, dopo siete breacate, sì, vabbè, mi dissocio, quello che ho detto, ho detto bene, sono italiano, che ho la vera idea, letto, voglio dire, seguitemi, quando vedete, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, bello a tutti ragazzi, un like, sono il numero uno, comando io, sono il maestro, io chiudo così, raga, vi voglio bene, John Zina, io io Mene Zina, e Cucu Sattama Mau, ciao belli, alla prossima, ciao, ciao raga,